Sanità appalti e nomine al centro del Question Time in Consiglio regionale a chiedere di fare chiarezza sulle ulteriori concessioni alle società di pulizia, mensa e vigilanza il consigliere di maggioranza del gruppo Campania Libera PSI Davvero Verdi, Francesco Emilio Borrelli. Da troppi anni all'interno di alcune aziende ospedaliere c'è una proroga assolutamente sospetta e sicuramente difficilmente giustificabile dei servizi che vengono offerti dalle società di guardiania privata, mensa e pulizia. In più occasioni è intervenuta addirittura la magistratura riscontrando che alcune di queste aziende erano in odore o addirittura avevano avuto interdittive antimafia perché collegate ad ambienti non per bene. Io ho chiesto nuove gare d'appalto e ancora oggi non sono avvenute con tutta una serie di motivazioni burocratiche ma la sostanza è che in alcuni casi cattivi servizi di pulizia, di mensa o di guardiania all'interno degli ospedali avvengono perché ci sono delle aziende che non svolgono al meglio il loro lavoro. Le nomine dei dirigenti degli istituti sanitari regionali, le graduatorie da dove sono stati scelti ma soprattutto i titoli di studio e altre referenze necessarie ad intraprendere l'incarico, l'oggetto dell'interrogazione proposta da Maria Grazia Di Scala, consigliera del gruppo Forza Italia. Ho inteso verificare se attualmente tutti i direttori generali che sono attualmente in carica abbiano questi requisiti, siano nel possesso di questi requisiti. La risposta è stata in effetti abbastanza generica perché se è stata specifica dal punto di vista delle normative che sono intervenute nel tempo non mi è stato detto se tutti coloro che rivestano il ruolo attualmente abbiano in effetti questi requisiti. Questo mi lascia pensare che forse alcuni direttori generali nominati dalla Regione Campania non avessero questi requisiti che sono poi intervenuti successivamente sulla base di normative intervenute appunto dopo.